Su Instagram si fa chiamare TheTrashLawyer ed è un meraviglioso ragazzo italiano il quale fa un'azione veramente meravigliosa vende quello che trova nella spassatura, questo è quello che si legge qua su internet, sul web in questo modo questo ragazzo italiano afferma la gente inizierà a fare attenzione per quanto riguarda il riciclo insomma un ragazzo giovane, una persona intelligente, tradotto in italiano TheTrashLawyer significa l'avvocato della spassatura questo ragazzo giovane e umile si batte per il diritto della spassatura di vivere un altro giorno e propone veramente qualcosa di stupendo e di magnifico riuscendo veramente a mandare a fornire un insegnamento più che valido più che reale, più che autentico a tutti quelli che effettivamente parlando vogliono, devono e possono come giusto che sia capire che il risparmio è fondamentale ma soprattutto quando ci butta qualcosa bisogna sempre fare attenzione perché ci sono sempre persone che hanno bisogno di quel qualcosa che magari viene ad essere buttato che può essere del cibo o altre cose beh, questo ragazzo mi piace, si è un ragazzo meraviglioso, caro TheTrashLawyer, non dico il nome con io per privacy fa un'azione meravigliosa straordinaria si è chiaro che questo video non vuole vedere la sua privacy ma informare stop lascio infatti solo per questo motivo e non per altri motivi grazie grazie